Sono trovato veramente bene con voi di Bookness, tutti i grandi professionisti pronti a risolvere i problemi tempestivamente, disponibili veramente in qualsiasi momento. E tu poi hai saputo dirigere in maniera particolare questo progetto che non era semplice. Come tutte le mie cose è un po' esagerato, nel senso non abbiamo fatto un video, 21 video, quindi mi hai aiutato tanto anche a canalizzare bene tutta la valanga di cose che volevo fare. Quindi mi hai indirizzato bene, quindi ti ringrazio e ringrazio tutti, tutti quanti veramente. E mi avete dato la possibilità di entrare in profondità su qualcosa che non mi ero fermato a comprendere quanto fosse importante scrivere. Mi avete fatto capire l'importanza di imprimere su carta ciò che senti, ciò che fai nel quotidiano, perché come si dice, verba volant, scritta manent. Ed è proprio così. Quindi ti ringrazio. Grazie della guida. Volere potere volare.